Un grosso tiro uscito dalla careggiata questa mattina intorno alle 10.30 lungo la strada che da Finile di Fano porta a Carignano. L'autista, un giovane del posto, ha perso il controllo del proprio mezzo a causa di una ruota di escolta che si è staccata da sotto il camion e finendo sull'asfalto. Inutile quindi il tentativo di accostare al lato della careggiata. La ruota infatti ha intralciato la manovra costringendo l'autista a finire con la motrice nel fosso. Illeso il conducente che ha raccontato tutto alla polizia municipale di Fano giunta sul posto per i lievi di legge.